La linea passa a Federico Monechi, a Peccioli, alla casa del futuro con i suoi robot. Sì, buongiorno Cristina, buongiorno dalla casa domotica di Peccioli. I nostri amici ricercatori non erano neanche nati quando nel 1980 Alberto Sordi ci regalò quel bel film intitolato Io e Caterina che raccontava la storia del primo robot badante, robot domestico, che poi alla fine acquisisce coscienza di te ed entra in conflitto con il padrone di casa. Il nostro amico Astro, che vedete accanto a me, ancora non parla, ma lo farà nei prossimi mesi. Un giorno, chissà, magari potremmo anche intervistarlo. Intanto ne parliamo con uno dei suoi progettisti, l'ingegner Filippo Cavallo. Quali sono le funzioni che svolgerà di assistenza a questo robot? Dunque, questo robot è in grado di assistere e di supportare le persone anziane all'interno di un ambiente domestico. La cosa particolare è che tutte le sue funzionalità sono state progettate coinvolgendo in degli incontri alcuni dei cittadini anziani di Peccioli. Questa maniglia, ad esempio, ve l'hanno suggerita loro? Sì, per esempio, questa maniglia è un supporto per la deambulazione, oppure sul retro c'è un porto oggetti per contenere alcuni degli oggetti più comuni, come un telecomando, delle medicine, ma questo robot è dotato anche di una certa intelligenza per cui può ricordare e comunicare con la persona quali farmaci prendere durante la giornata, oppure è in grado di rilevare alcune particolari situazioni della casa con alcuni sensori per dare un input di allerta in situazioni critiche. Ecco, lo vediamo proprio in funzione durante le sperimentazioni qui nella casa domotica di Peccioli. E questa è una casa che è gestita tutta da un computer. Io mi sto trasferendo proprio qui dall'ingegnere Massimo Filippi alla sua postazione di comando, perché intorno a noi c'è tutta una rete di sensori. A cosa servono questi sensori? Sì, questa è l'interfaccia che permette di gestire i sensori in funzione all'interno della casa. Attualmente sono in funzione tre sensori montati rispettivamente in corrispondenza della porta, del divano e del letto. Il software è in grado di individuare eventuali situazioni di pericolo, come ad esempio l'apertura della porta oppure l'assenza dal letto del soggetto durante le ore notturne. Se un anziano si sente male cosa succede? Il software è in grado di inviare tempestivamente un messaggio di allerta all'abadante, al familiare che si occupa del soggetto nella casa, che può quindi intervenire tempestivamente. Quindi arrivano dei messaggini, in sostanza sui telefonini? Sì, in sostanza arrivano degli sms di allerta sui telefonini, sì. Quanti sensori dovrete installare a progetto finito? A progetto finito installeremo anche tutta una serie di altri sensori, innanzitutto dei sensori indossabili che permetteranno di monitorare parametri fisiologici del paziente, come ad esempio l'attività cardiaca, l'attività respiratoria oppure la temperatura. La pressione anche, che è importante. Grazie Massimo, questa è un po' la casa del domani, la casa intelligente del futuro, e un po' anche la visione sociale degli studi portati avanti dall'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiaro in Sant'Anna di Pisa. Di questi studi si occupa l'ingegner Michela Aquilani. Aquilano, ecco, qual è la visione sociale dei vostri studi? La questione è che noi studiamo queste tecnologie affinché siano davvero inseribili all'interno dei servizi, quindi sia nei servizi svolti dai familiari che seguono le loro persone anziane, ma anche nel contesto dei servizi sociali, quelli forniti dagli enti pubblici, dalle cooperative. Cercate di capire i nuovi bisogni degli anziani? Esattamente, cerchiamo di capire quali sono i loro bisogni, cerchiamo di capire qual è la loro aspirazione di qualità di vita e come si possono migliorare questi bisogni e anche questi servizi attraverso le tecnologie. Quindi però progettando le tecnologie in modo che siano accettabili, usabili e adatte alle persone, agli utilizzatori. Quindi maggiore efficienza, anche un'ottimizzazione dei costi del welfare, come si dice, ossia dei servizi sociali? Assolutamente, perché con questi strumenti si può prolungare la permanenza a casa delle persone che ha un effetto benefico sia a livello psicologico che fisiologico e anche a livello di costi. Grazie, vediamo proprio nelle immagini alcune sperimentazioni, alcuni momenti di studio con gli anziani di Pecioli. Ci sono nove ricercatori, li vedete qui sul nostro divano di questo bell'appartamento di Pecioli, che lavorano su questi progetti. Sono tutti ragazzi che arrivano da varie regioni, ingegneri biomedici ed elettronici, che ripongono molte aspettative in questi studi. Manuele, qual è il vostro progetto di vita? Cosa sperate di crearvi con queste esperienze? Noi siamo persone che si impegnano tutti i giorni, non solo per il nostro futuro, ma speriamo anche che quello che facciamo possa essere utile un giorno anche per gli altri. Questa è la molla che ci spinge a impegnarci ogni giorno e a credere in quello che facciamo. Quindi credere nel futuro, proprio non solamente per una visione nostra personale, ma anche per una visione collettiva. Grazie, grazie a tutti voi, complimenti e un giorno torneremo a trovarli per vedere i passi avanti di questa ricerca. A voi la linea. Grazie, grazie Federico.